Pietra Camela Gran Sasso Outdoor ha preso il via la nuova stagione ricca di attività gratuite, sportive, ricreative e laboratoriali, pensate per offrire un'esperienza completa e diversificata. Oltre 80 attività e 5 eventi sino a settembre, un calendario rivolto ad un target ampio e variegato, famiglie, gruppi di amici e appassionati di sport all'aria aperta e amanti della natura. Ogni attività è stata progettata per rispondere alle diverse esigenze garantendo numerosi gradi di difficoltà per diversi livelli di preparazione. La nuova stagione di Pietra Camela Outdoor si caratterizza per un calendario molto più ampio e ricco di offerte dei servizi e poi soprattutto con un'attività di comunicazione più incisiva che mira a raccogliere, quindi a sensibilizzare i turisti, ad esempio che quest'anno arriveranno sulla costa terramana verso le attività che svolgeremo in montagna. È un progetto che raccoglie e integra le attività di diversi operatori economici del luogo e quindi dagli operatori professionali della montagna alle strutture ricettive e alle attività ristorative. In questa fase il progetto si evolve avviando un nuovo sistema di prenotazioni online, uno strumento che permette ai visitatori di programmare le proprie esperienze in modo semplice e immediato, scegliendo le attività preferite e verificando in tempo reale la disponibilità per le date desiderate. Il sistema di prenotazione è accessibile direttamente dal sito pietracamelaoutdoor.it. Il progetto pietracamela capitale degli sport di montagna che ha sviluppato questo brand che si chiama Pietracamela Gran Sasso Outdoor inizia una seconda fase nel 2024 mettendo un po' a sistema le iniziative pilota realizzate durante l'annualità precedente. L'obiettivo era quello di costruire un sistema di collaborazione tra i professionisti della montagna e il settore turistico ricettivo per sviluppare un'offerta integrata capace di intercettare i flussi turistici delle famiglie, degli appassionati di montagna, degli esperti di alpinismo. Quindi abbiamo costruito un sistema di eventi e di esperienze basato appunto, i cui contenuti sono forniti dai professionisti della montagna e quindi è una rete fisica collaborativa ma anche una piattaforma digitale che consente di accedere a queste esperienze, di prenotarle e poi di viverle sul territorio.